Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, andiamo a vedere qual è la situazione della viabilità in Toscana, partendo dalla FIPILI dove a causa di un incidente si registra un chilometro di coda tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Val d'Arno in direzione Livorno. Si ricorda inoltre che fino alle 20 di stasera per lavori di pavimentazione rimarrà chiuso il tratto tra Livorno e Darsena Toscana Est verso Firenze. Passiamo alla statale 1 Aurelia dove sempre a causa di lavori di pavimentazione, scambio di carreggiata tra Monte Pescali e Gavorrano chiusi lo svincolo di Braccagni in entrate e uscite e quello di Monte Pescali in uscita in direzione Livorno. Si ricorda inoltre che la statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!